Un dicesima di campionato, Algino Manni la collegiana ospita Oscandici secondo in classifica. Carobbi costretto a ridisegnare completamente la squadra a causa di ben otto assenti. Parte subito forte Oscandici, un dicesimo minuto. Cross basso di Gori, interviene Vangi, il portiere Iali manda in angolo. E sul seguente corner è ancora Iali a superarsi sul colpo di festa di Ammannati. Al quarantesimo Scandici in vantaggio. Cross di Iacuinardi, devia Tognarelli, pallone sui piedi di Vinci, Tognarelli sporca e Iali è ingannato. 1-0 per lo Scandici. Meno di un minuto all'inizio della ripresa e la collegiana usufruisce di un calcio di punizione dal limite. Ciò che segue è dell'incredibile. Calcio a Masini, il portiere Pellegrini alza contro la traversa, sulla ribattura interviene venuto, ancora traversa, pallone sulla gamba di Donnini che inganna il proprio portiere. 1-1. Pareggio è duro a meno di 10 minuti. Apertura per Vinci, cross dal fondo, Vangi salta in contrastato ed è 2-1 per lo Scandici. Al diciassettesimo ci sarebbe anche l'occasione per il 3-1, Maiali devia bene il tiro di Gori. La risposta della collegiana è ancora sui piedi di Masini. Calcio di punizione, Tognarelli devia e sfiora il palo. Al trentacinquesimo, cross dalla tre quarti di Pietro Battista, deviazione di Masini che sbaglia però completamente l'impatto. E al quarantesimo ancora Iali che si supera su questo tiro da fuori area di Gori. Chiude la partita in attacco la collegiana, ma il risultato non cambia più fino al fischio finale. 2-1 per lo Scandici, con i fiorentini che raggiungono la prima posizione in classifica, tornano invece ultimi in solitaria e biancorossi.